Dalla giornata di oggi a Piacenza, come in tutta la regione Emilia-Romagna, è possibile prenotare e somministrare la terza dose booster del vaccino anti-Covid per tutti i maggiorenni, come da indicazioni della struttura commissariale nazionale. Possono richiedere un appuntamento dunque tutti coloro che hanno almeno 18 anni compiuti e che abbiano completato il ciclo vaccinale da almeno 150 giorni, ovvero 5 mesi. Per prenotare è possibile chiamare il numero 800 651 941 oppure il nuovo numero 0523 1871 412 dedicato alla prenotazione della vaccinazione anti-Covid, attivo da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 17 e il sabato dalle 8.30 alle 13. Inoltre si può prenotare in farmacia, online attraverso il fascicolo sanitario elettronico oppure su www.cupweb.it, rivolgendosi a uno degli sportelli CUP del territorio oppure rivolgendosi al proprio medico di famiglia. L'azienda sanitaria ricorda che la prenotazione va richiesta in prossimità della scadenza dei 5 mesi dall'ultima somministrazione e non prima.